Salve, sono Maurizio Bernardi, amministratore delegato e CFO di BSH elettrodomestici Bosch Siemens Home Appliances. Sono presidente del consorzio Aerion Packaging e uno dei promotori dell'iniziativa Packaging Eco Design the Future. Io sono convinto che i ragazzi sapranno sorprenderci con idee originali e geniali. Il mondo della sostenibilità è un terreno tutto ancora da esplorare per le aziende, quindi idee nuove sono sicuramente molto importanti, anche se vengono proposte in forma grezza e questo può essere la base per lavorare insieme all'azienda per soluzioni concrete e fruibili. Sono convinto che su questo i ragazzi non ci deluderanno. Diciamo che innanzitutto le aziende si sono sempre più focalizzate sul prodotto e quindi hanno cercato e stanno cercando la neutralità da un punto di vista dell'impronta di carbonio in quella che è la produzione del prodotto. Sempre di più sono necessarie soluzioni che si estendano anche a tutta la supply chain e sicuramente anche l'imballaggio da questo punto di vista è una componente fondamentale per fare sostenibilità e in questo terreno sicuramente c'è tanto da fare. I progetti sono tanti e vanno da tutto quello che ha un impatto sull'ambiente ma anche a nuovi modelli di business che abbraccino anche la responsabilità sociale. Penso che i progetti che possano essere vincenti dal punto di vista della sostenibilità saranno quelli in grado di coniugare l'aspetto ambientale e sociale con quello economico perché le aziende continuano a vivere di profitto e i profitti sono importanti per poter investire. Se si riesce a creare il giusto connubio tra ambiente, sociale e sostenibilità economica penso che quei progetti saranno quelli vincenti per il futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.